La nuova ondata di proteste degli allevatori francesi contro i prezzi troppo bassi di carne e latte invade la Normandia e blocca anche uno dei luoghi simbolo del turismo transalpino, Mont Saint-Michel, almeno fino a giovedì. Vicino al monastero è stato versato le tame e parcheggiati automezzi sul tragitto. Inutili tentativi di dialogo, vogliamo un ministro sul campo, avrebbero detto i manifestanti.